La pace del Signore sia con tutti noi, miei cari nella grazia. Vi do il buongiorno a tutti, continuiamo a pregare tutti insieme e lodiamo il Signore con magnificenza, con simpatia e con amore. Ancora oggi vi ricordo che la preghiera è lo stimolo dell'uomo e dell'anima. Ciò che facciamo con cuore avviene una metà morfosi. Senza che ce ne accorgiamo, il Signore ci trasforma e ci fa ancora più splendente. Vuoi diventare splendente? Avvicinate di più a Gesù. Vuoi guarire? Avvicinate a Gesù. Vuoi la vita eterna? Avvicinate a Gesù. Non c'è niente altro, solo Gesù. E con questo vi abbraccio, con un abbraccio fraterno e un bacio immenso. Pace del Signore a tutti. Amen. E con questo vi abbraccio, con un abbraccio fraterno e un abbraccio fraterno e un abbraccio fraterno. E con questo vi abbraccio fraterno e un abbraccio fraterno e un abbraccio fraterno. Grazie a tutti.